Sono le 3.30 quando l'ordigno esplode, sventrando la filiale della BCC di Flumeri all'uscita del casella autostradale di Grotta Minarda. I banditi hanno poi usato una Fiat 1, rubata poco prima nelle vicinanze di via Manzoni, come ariete, per sfondare la vetrata dell'istituto di credito ed entrate all'interno hanno prelevato velocemente la cassaforte dello sportello, caricandola a bordo di una potente autovettura con la quale si sono date alla fuga. Dovrebbe trattarsi di una Golf Volkswagen sulla quale si sono concentrate le attenzioni delle forze dell'ordine subito dopo l'allerta. Non è da escludere che nella pianificazione del colpo da parte dei malviventi sia stata calcolata anche l'attività di controllo della polizia stradale lungo le arterie della 16. Le indagini della compagnia Carabinieri di Ariano Erpino, guidata da Andrea Marchese, sono in corso. Si punta a stabilire, sia ad agire, sia stata la stessa banda che ha messo a segno il colpo a Abisaccia nella notte fra mercoledì e giovedì. Intanto c'è sgomento nel paese Ufitano dopo aver appreso della scorribanda notturna. Non è una cosa che non sappiamo niente, ma anche se mi dice. Quando succedono questi episodi si restano profondamente scossi e sconvolti perché ovviamente anche la tipicità, la dinamicità dell'attività. Noi siamo sconvolti ma al tempo stesso abbiamo anche una... Questi episodi possono avvenire perché non è che possiamo essere... e le forze dell'ordine possono essere onnipresente in qualsiasi momento. Però ci auguriamo che si possano non solo contribuire, così come si sta facendo magnificamente, a prevenire sul territorio questi episodi, ma soprattutto anche a colpire gli autori, gli autori di questi episodi che sconvolgono ma che anche sono episodi poco piacevoli.